Cari ragazzi, bentornati qui sulla rubrica settimanale più... Quanto mai cazzo lo diciamo a fa' nessuno? Vabbè, e Neves, si parla di notizie, tra poco ci sarà una delle convention più importanti per noi videogiocatori, Sanremo, e lo seguiremo insieme. No, non è vero, perché come tutti gli anni, quando c'è l'E3, io e lui siamo fuori sede. Ma, ma, ma faremo dei video come al solito, riposati, senza occhiaie, in cui vi diremo le nostre... E seguiremo l'E3 in maniera estremamente attenta nel viaggio di ritorno che faremo da Firenze, ascoltando gente che parla in inglese, anzi peggio in americano molto spesso, capendo il 5%, ma poi argomentando molto approfonditamente ciò che capiremo soltanto in parte. Perché il 12 giugno saremo a Firenze a parlare di start-up, di doceti, eccetera. Se volete partecipare è gratuito all'ingresso, state tutti i link in basso, quindi adesso perché abbiamo due fogli, anzi quattro fogli, invece di... Perché oggi facciamo un esperimento, leggiamo una riga a testa. No, abbiamo quattro fogli? No, leggiamo un capoverso a testa. Un capoverso. Tanto sono anche divisi bene. Non l'abbiamo mai fatto, cioè facciamo qualcosa di innovativo. Va bene. Elezioni 2019, quando Lara Croft tira più della Merkel. Quando pensiamo all'elezione è facile immaginare cabine elettorali, striscioni, slogan e tipi in giacca e cravatta, tuttavia da oggi dovremmo aggiungere un nuovo tassello di videogiochi. I politici ne sanno una più del diavolo e hanno ben pensato di impiegare i videogames per attirare gli elettroni più ciovani. Ecco quindi nascere Missione Bari. Che tanto c'è? Bari. Bari. Un action dove dovremmo aiutare i vigini a rimuovere le macchine parcheggiate sul lungomare, cancellare i graffiti e buttare via i sacchi della spazzatura abbandonati in strada. Il socco, lo stanno pure in strada. Il tutto doppiato in dialetto barese. Il gioco è gratuito e illustrerà in modo semplice e ironico il programma elettorale di un politico locale. Quindi non fate tremoni e provatelo. Subito. E' geniale, è geniale. La Francia non è da meno. Ecco quindi spuntare Super Jam Bros. Titolo liberamente ispirato al baffuto idraulico italiano. In game bisognerà raccogliere le stelle della UE e affrontare i super boss Marine Le Pen e scusate la pronuncia ragazzi perché io sono... ma visto che il mondo è bello perché è bario, ha pensato di contrattaccare lanciando Fiscal Combat dove a suon di schiaffoni dovremo farci restituire i soldi rubati dai banchieri e politici corrotti. Ultimo ma non meno importante abbiamo Call of Salvini. Giochi in cui personale è il nostro ministro cosplayer Grillo o Renzi dovremmo cercare di ottenere più like possibili sui social. Buon divertimento. Il titolo è clickbait. Perché infatti Lara Grillo. Perché Lara non c'è. Questo è un clickbait. Ah comunque... Sì in effetti allora vabbè ovviamente ci sono del... penso che i primi due giochi quello Italian Missione Bari e l'altro francese siano effettivamente per aiutare la politica ma quell'altro proprio... No Call of Salvini è chiaramente un videogame come si dice... Political is correct. Forse non lo so. Non ho mai giocato quello Salvini. Ho visto il video di Frouse all'epoca. Ho visto pure il video di Frouse. Mi fece un pochino così. Però. Però. Ripara un sintetizzatore degli anni 60 ma finisce per fare... Sballarsi. Finisce per fare... Sballarsi di LSD. Per sballare. Senza fare. Ma finisce per sballarsi di LSD. All'ingegnere americano Elito Curtis, manager della TV californiana Kpix. Kpix probabilmente... Proviamo a leggere insieme. Proprio... Non ci abbiamo mai provato. Oggi voglio... One, two, three... All'ingegnere americano... Ah, tutto dall'inizio. Adesso sei arrivato lì? Vai. Un, due, tre... All'ingegnere americano Elito Curtis, manager della TV californiana Kpix, è accaduto davvero una vicenda sballosa. La CBS ha raccontato che l'uomo aveva deciso di aggiustare un vecchio sintetizzatore appartenente al dipartimento musicale della Call State, l'universo di East Bay, negli Stati. Lo strumento... Ziggascio, non sei. Tre, due, uno... Il strumento era stato commissionato negli anni 60 da due musicisti all'avanguardia ed era in possesso dell'Ateneo da decenni, ma in disuso e chiuso l'angolo di una classe. Mentre lo stava riparando, però, l'ingegnere si è accorto di una strana incrustazione cristallina sulla superficie e ha tentato di rimuoverla con le mani. 45 minuti dopo averla pulita con un solvente estrofinato con le dita, però l'uomo ha sperimentato uno strano malessere, durato nove ore. Un vero e proprio trip da LSD che si assume anche per via cutanea. E' veramente strano. E' orribile. Allora, questo uomo praticamente ha visto che c'era un'incrustazione cristallina su sto sintetizzatore, ha provato a pulirlo così con il dito, poi si è messo il dito nel culo e si è sballato perché era probabilmente una formazione cristallina lisergica. L'ingegnere è stato subito ricoverato in ospedale dove successive analisi hanno permesso di identificare la sostanza come un residuo di LSD rimasto in attivo dopo decenni. Lo strumento, un bucchia, non conosco qualcosa, modello 100 molto utilizzato negli anni 60, ecco perché non lo conosco, potrebbe aver raccolto il cristallo nel corso di una serata regalando più di 50 anni dopo a Cartis una giornata indimenticabile. Insomma, i ruggenti anni 60 non muoiono mai. Giovanni Arestia, H. Giovanni. Queste cose mi fanno ben sperare per il futuro, cioè quando tutta la droga del mondo sarà debellata, ci saranno, mi fanno proprio come le malattie, vanno debellate. Sì, 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 debellate. Allora, ci saranno dei sintetizzatori pieni di LSD e saremo tutti lì a pulire i sintetizzatori. Posso dire una cosa? Non ho mai capito questa correlazione tra i musicisti e la droga. Cioè, nel senso che esiste la correlazione tra i musicisti e la droga. Però non ho mai capito il perché. Beh, ma se usi un sintetizzatore per forza sei drogato. Ma non è vero. Sì, sì. È uno strumento musicale. Guarda, lì fuori, tu usi un sintetizzatore? Sì, sei drogato. Sappiamo. Non erano i bassisti che si drogavano. I bassisti si drogavano perché non possono fare i chitarristi. Esatto. Quindi si drogano per depressione. Allora, i bassisti si imbriagano sempre. Perché? Perché così si sdoppiano le corde e almeno ne vedono otto. Dicono, poca puttana, sono più di un chitarrista. Non è vero, sono i bassi a sei corde. Però, io prendo sempre per il culo i bassisti perché in realtà vorrei sapere suonare bene il basso. Ah, aspetta, ma suonano la chitarra, che cazzo mi... Sei un amore a me. E in arrivo una nuova, piccola rivoluzione console portatile. Stanchi del monopolio di Nintendo nel mercato delle console portatile. Stufi di arrivare a porra di pranzo con la batteria del cellulare scarica perché sul basso avete perso quel quarto d'ora in più a giocarci. Vedi, sul basso perdi un quarto d'ora a giocare, ma che cazzo sono... Scusatemi. Presto potrebbe presentarsi a voi una valida alternativa con il nome di Playdate. Playdate è una piccola console portatile che si distingue per il suo look retro, con la presenza di un display in bianco e nero, la classica croce direzionale con i tasti A e B e una piccola manovella sul lato destro. In base a quanto dichiarato dalla casa sviluppatrice statunitense Panic, divenuta famosa per Firewatch, pare che alcuni giochi faranno di questa manovella il proprio vero fulcro, mentre altri lo ignoreranno completamente. C'è un vero selvatico. A proposito dei giochi, c'è da dire una cosa molto interessante. Saranno compresi nel prezzo della console. Panic ha annunciato, infatti, di aver stretto un accordo con diverse sviluppature, tra cui Keita Takashi, che ha creato... Katamari Damacy. Oh, come sei... sei edotto, proprio. Però preferisco la versione... quella lì da Ristorante. Katamari Damacy, mi piace di più. Che gli permetterà di lanciare ogni settimana un nuovo gioco gratuito e originale, per il totale di ben 12 titoli inclusi nell'acquisto della console. Ben 12 titoli? Ben 12 titoli? Mi sembra le cose... le mini console di Nintendo. Ben 12 titoli? Piena di 21 giochi. Piena, piena di 21 giochi, di cui la metà non ti inculeresti mai. Paydate verrà lanciata sul mercato all'inizio 2020 al prezzo di 149 dollari. Diviso 12? 149... Allora, sono 150. Diviso 10, sono 15... Più 2, 44, più 7... Sono più o meno 16... 16, ho ragione. Assisteremo a un nuovo fenomeno di massa. Antonio Pontilacca, fammi il piacere. Messaggio promozionale, sabato 1 giugno, verrà pubblicato su QDSS.it... Intervista esclusiva... Aspetta, va rifatto. Attenzione, messaggio promozionale. Sabato 1 giugno, verrà pubblicata su QDSS.it... Intervista esclusiva a Redez e Sinergo, che sono due fregnoni della Madonna, per inciso, noto da redazione. Venghino, signore, venghino. Quindi, il primo giugno, su QDSS.it, c'è la nostra intervista, che potrete leggere. Che tra l'altro il primo giugno è una giornata pazzesca. Vogliamo dirlo perché? Perché? Il primo giugno è una giornata pazzesca per noi italiani. Ah, no, quello è il 2. No, il primo giugno. Primo. Eh, no, ah, sì, per quello. È il weekend, dillo! Ah, è il weekend, dillo. Ah, porco Giulia. Comunque, ragazzi, sì, ci saranno... Non so che c'era Rimini Fitness. Cioè, sì, c'è pure una fiera a Bari. No, è Rimini. La fiera del... Del fitness. Io ci vado tutti gli anni alla fiera del fitness. Sapete perché? Allora, per me è importantissima la fiera del fitness. Prima che entri c'è sto tizio che fa le piadine. Comunque sì, ha... Torniamo a Playdate. Per me è una cacata. Mo, ditemi quello che vuoi. No, aspetta, dipende... Ho due tasti. A e B è una rotella. Mo, ok che la fantasia vola. In bianco e nero. Ok che la fantasia vola, ma... Bianco e nero. Bianco e nero. E questa è la potenza del gioco. Ma secondo me... Allora... Nel 2020 avremo le macchine che... Che volano. Che volano. Ma non... Riesce un Game Boy. Secondo me tutti gli scrittori di fantascienza hanno scritto il futuro tralasciando la nostalgia. Tu pensaci in tutte le opere fantascientifiche a meno che non siano steampunk. Ma... Non c'è mai la nostalgia del passato. Ma secondo me... Ti rifaccio la domanda. Uno spende 149 dollari per avere una console portata. di quanto a 149 dollari attualmente prendi la PSP e almeno vendi giochi. Forse prendi la PS Vita. Eh... Oppure la PS Vita. Allora più potente. Però ce n'hai meno di giochi sul PS Vita. Sicuramente. Quindi io dico la PSP. Comunque c'è una grafica... educata. La PSP è una gran console. C'è un botto di giochi. C'è pure uno schermo a colori con diversi tasti in più. Ma tu non consideri una cosa. Dallo stile retro. Ed è questo che la farà vendere. Perciò hanno venduto i mini NES, i mini Super NES, le mini PlayStation. Sì, va bene. Ma è una console portatile. Cioè... Ok che io la Nintendo, il NES e tutto il resto ce l'ho sopra allo scaffale di casa in bella vista con tutti quelli che vengono. Io ho bella sta console. E io ho bella. Giochiamo? No. E sta lì per bellezza. Ma io mi ce l'ho attaccato in camera da letto. Super NES. Però una volta finito Ghosts and Goblins onestamente ho perso l'interesse. Eh, quindi... Voi la comprereste? Comprereste? Io sinceramente no. Se non per studi di questo genere qua. Allora, io forse la comprerei se ci fossero dei giochi geniali. Piccoli ma geniali. Cioè dovrebbero essere davvero 12 titoli... In bianco e nero. In bianco e nero ma molto belli. Molto belli. Per quello c'è il Game Boy. Vi comprate i Pokémon che sono infiniti tanto. E andate avanti col Game Boy. Vabbè, ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate di staccrocco nostalgico. Noi finché non vediamo i giochi non potremmo darvi una... Diciamo così. Io dico una puttanata. Però vai. Perché ne ho visti tanti a crashare tipo Uia. Sì, ma Uia però aveva tante frecce a suonare. Uia ha detto... Sono portatile. Era portatile. Era la prima consolina piccola portatile in effetti. Però... Portatile nel senso che te la potevi mettere nello zainetto. Era piccolissimo alla fine. Ed era open. Era tante robe. Uia aveva un bel gamepad. Però dovremmo riparlare di Uia perché secondo me The Amazing Frog va rigiocato. Sì, infatti sta su Steam.